Oggi è martedì 27 marzo, buongiorno ai nostri ascoltatori, ben trovati a questo appuntamento con pomeriggio con noi. Andiamo subito sulle testate online per un aggiornamento delle notizie della mattinata cominciando con Lucca in diretta. Anziano per un'ora in balia di tre banditi in casa, minacciato e rapinato di tutto, il pensionato dice ero nel panico, poi sono riuscito a fuggire. È stato per un'ora in balia di tre rapinatori che lo hanno affrontato sulle scale di casa e gli hanno coperto la bocca con le mani. Se stai buono e non gridi non ti accadrà nulla di male. Un incubo a cui un pensionato, Ubaldo Dardi, 84 anni e fegato da vendere, è riuscito a sottrarsi soltanto dopo alcuni quarti d'ora di paura, ingannando i ladri e rifugiandosi dalla vicina. Una serata che difficilmente questo anziano 84enne potrà dimenticare. Andiamo ora sull'altra testata, lo schermo, apertura dedicata alla sede della Guardia di Finanza, smantellata a Lucca dalla Guardia di Finanza, o meglio la sede, il lavoro svolto dalla Guardia di Finanza, smantellata un'organizzazione criminale contigua ai casalesi. Poi vediamo qualche dettaglio di questa notizia, di questa operazione portata a termine dalla Guardia di Finanza di Lucca, l'ombra dei casalesi arriva a Lucca. La Guardia di Finanza infatti, aspetta torniamo nuovamente, ha sventrato un'organizzazione che aveva base nella provincia lucchese, riusciva ad aggiudicarsi numerosi appalti in modo non lecito. È scattata l'operazione alle prime ore di questa mattina, in esecuzione di un provvedimento emesso dal GIP di Firenze, nell'ambito delle intagini coordinate dalla Direzione Distrittuale Antimafia della Procura di Firenze. Andiamo ora sulla cronaca del Tirreno, edizione Versilia. Il primario Cima, parliamo di sanità, il primario Cima lascia ostetricia del Versilia, al suo posto subentra Marsili. Eccolo qua, in pensione lo storico direttore del reparto, il noto ginecologo lo sostituirà in attesa del concorso che dovrà fare la ASL. È Andrea Marsili, medico candidato a raccogliere l'eredità di Giovanni Paolo Cima, alla guida del reparto di ostetricia di ginecologia dell'ospedale Versilia. È il dottor Marsili, conosciutissimo ginecologo versiliese e colonna da anni dell'ospedale di Lido di Camaiore, dopo aver prestato servizio all'ospedale di Pietrasanta, sta già sostituendo Cima in questi giorni di transizione. Dunque, ci dovrà essere un concorso per stabilire poi chi sarà il futuro direttore del reparto. A Via Reggio, il debutto televisivo di Fabrizio Frizzi, addio eterno ragazzo della televisione. Nel 1984 Frizzi, la prima in esterna sulla passeggiata per la trasmissione Tandem e nel 2007 gli fu assegnato il burlamacco d'oro. Qui lo vediamo in questa foto insieme a Dondina ricevere dalla Fondazione Carnevale l'ambito riconoscimento. Andiamo ora sulla edizione lucchese del Tirreno, petizione per il ragazzo ucciso in Darsena, l'investitore non deve tornare al lavoro. Questo chiedono i familiari del ragazzo ucciso nell'occasione del primo corso di Carnevale di quest'anno sul vialone nella marina di Levante a Via Reggio. Poi appalti, corruzione e riciclaggio, associazione criminale con base a Lucca. Poi ritrovato lo sci alpinista disperso sul monte Rondinaio, oggi particolari in più sul suo ritrovamento. Poi moratoria dei locali parlano le belle arti che esprimono un parere favorevole. Vediamo meglio di che cosa si tratta. Come ho già detto al sindaco Tambellini questa materia è dispettanza del comune e non della soprintendenza. In ogni caso se la regione necessita di un nostro parere siamo pronti a fornirlo e sarà un parere favorevole. Raggiunto telefogicamente dal Tirreno a Londra mentre sta per imbarcarsi su un volo che lo riporterà in Italia, il soprintendente Luigi Ficacci fa chiarezza sulla volontà delle belle arti in merito al blocco delle licenze per la somministrazione di bevande e alimenti nel centro storico di Lucca. Andiamo ora sulla Nazione, edizione Via Reggino, tutti gli eventi delle vacanze di Pasqua, mostre, escursione e gite anche sul fiume. Le vacanze di Pasqua sono perfette per riscoprire la natura dopo i mesi invernali, ma anche per escursioni alla scoperta di luoghi storici. Sono tante le proposte sia in Toscana che in Umbria, oggi di questo parla la Nazione. Poi sul molo un'incursione artistica del writer Bansky, vediamo di che si tratta. Qualche mese fa venne inaugurata questa opera scultoria fatta dal Maggini, del gatto che per vent'anni ha frequentato questa zona del molo di Via Reggio nei pressi della passeggiata. Ora lo sfondo è azzurro, riempie appena lo spazio dello sportello di una centralina del gas. Riempire il grigio urbano in un angolo che custodisce la semplicità, le radici, la fatica, crocevia della gente di mare per cui giorno e notte si confondono. Come in un'iscursione d'arte blu si presenta a Via Reggio, dandoci un tassello di mosaico monocromatico sparso per mezzo Italia della sua personalissima serie. L'arte sa nuotare. La firma è del writer fiorentino, è comparsa ai piedi della statua di Ettore, il gatto dei pescatori. E praticamente eccola qua giù, fa bassa, lo vediamo in questo riquadro. Sempre sulla Nazione Online, vediamo altre notizie di aggiornamento. L'incendio nella faregnameria navale nel quartiere del Cotone, ipotesi dolosa. Sulla vicenda indagano i carabinieri che esamineranno le immagini delle telecamere della zona. Poi mafia Matteo Messina Danaro, il super boss è stato avvistato in Versilia. Assalto in farmacia con il coltello a Torre del Lago, l'ennesima azione criminale. Poi scene osè nel film contro la mafia e la prof porta via tutti gli alunni durante la proiezione. Ancora sulla Nazione, ma andiamo in edizione lucchese, il lavoro in vetrina i negozi assumono. Vediamo dei tagli di questa notizia pubblicati dalla Nazione Online edizione lucchese. Eccola qua. Commesso stagionale cercasi, i negozi dal centro e non solo, escono dall'etargo. La sveglia sonora sono i flussi turistici che stanno iniziando a muoversi, che in questi giorni fanno fiori e interessanti occasioni di lavoro. Con gli avvisi, bella mostra sulle vetrine. Cerca il bar Astra, ad esempio, ma cerca personale anche Era.com in via Cenami. Selezioni aperte anche per un nuovo negozio in arrivo in piazza San Michele. Il Candido. Poi Blanc Junil, che conta 192 negozi, forse nessun alter ego online, posizionati nelle località di vacanza, tra cui uno anche a Baia Sardinia, in costa Smeralda. L'attività cerca una commessa che sappia l'inglese e il tedesco. In generale è la prima carta, quella della presentazione del curriculum del colloquio, che conta. Andiamo ora sulla cronaca tgregione.it. Silvia Betta in carcere a Pisa. L'avvocato Fabrizio Miracolo ha rinunciato al mandato l'avvocato Miracolo, nominato ieri difensore di fiducia di Silvia Betta. Lo ricordiamo, la donna che è stata arrestata ieri. Vediamo i dettagli di questa notizia. Prima di chiudere questa nostra rassegna stampa, con l'aggiornamento delle notizie. Difensore arrestata dai carabinieri di Torre del Lago e trasferita nella sezione femminile del carcere Don Bosco a Pisa. L'ultima notizia, rapina shock a un anziano. Questo è il nostro sito Noi TV Web. Rapina a un anziano a Capannori. Nella serata di domenica tre malviventi, col volto coperto, sono armati di passamontagna, o meglio, diciamo così con il volto coperto da passamontagna, lo hanno tenuto prigioniero. È tutto? Bene, tra poco la seconda parte di Pomeriggio con noi e parleremo purtroppo di un fenomeno in grande crescita, l'uso e l'abuso di alcol. Linea alla regia. Seconda parte di Pomeriggio con noi, salutiamo subito il nostro ospite che è Bruno Vangelisti di ACAT Versilia, l'associazione che si occupa dei problemi o delle patologie legate all'alcol. Tanto grazie per aver accettato questo nostro invito. Io ho accennato brevemente gli scopi della vostra associazione. Voi dove operate e che cosa fate esattamente? Tanto buongiorno a tutti, grazie per l'invito. L'associazione è ormai da 30 anni che opera su tutto il territorio nazionale con più di 2000 club. In Versilia abbiamo circa 6 club, Comune di Forte e Malmi, Comune di Piedrasanta, Lido di Camaiore, Camaiore, Viareggio e da poco anche in Massarosa. Lavoriamo principalmente sostenendo le persone che hanno problemi e famiglie che hanno problemi legati all'alcol, a dipendenza dall'alcol. Il club fondamentalmente è una comunità multifamiliare dove si ritrovano una volta alla settimana queste persone, queste famiglie che hanno il problema con l'alcol insieme ai nostri operatori. Stiamo lavorando insieme un pochino sulle esperienze e la condivisione delle problematiche, si riesce poi a dare un sostegno e un aiuto a queste persone per cercare di accompagnarli nel percorso per ritornare alla sovrietà. È un fenomeno piuttosto vistoso nel nostro territorio questo dell'uso e l'abuso dell'alcol? L'alcol anche in Italia è un fenomeno molto importante. Si parla di morti come la seconda morte in Italia dopo quella del tabacco. E in più, anche e soprattutto negli ultimi anni, nei giovani, con il badge drink del sabato sera, il rischio sta aumentando soprattutto. È l'alcol la principale morte di causa nei giovani sotto 25 anni. O direttamente con l'alcol oppure per danni derivati dall'alcol, per incidenti stradali. Ecco, e nonostante si denunci quotidianamente il pericolo dell'abuso dell'alcol, è in costante aumento il consumo di questo prodotto? Sì, questo anche perché purtroppo l'Italia fa parte un po' della nostra cultura, il consumo dell'alcol, vino, birra, eccetera. E quindi sradicale quello che sono un pochino le abitudini è molto difficile. E soprattutto è difficile anche rendere consapevoli le persone dei rischi legati al consumo di alcol. Questo è un lavoro che noi come associazione portiamo avanti, oltre al lavoro nel club, cerchiamo anche di fare un'opera di sensibilizzazione e informazione per far sì che le persone, diciamo, conoscano più i rischi legati al consumo di alcol, in modo da sperare che possano fare delle scelte di salute migliori. Esatto. La nostra provincia, la provincia di Lucca, rispetto al resto d'Italia, è nella media o siamo ancora più forti consumatori di alcol? Ora io non ho leggermente i rati, forse il CERT potrebbe essere più indicato sotto questo aspetto, però noi facciamo annualmente una banca rati nostra dei frequentatori dei club e si vede che negli ultimi anni sono aumentate le persone che sono arrivate ad avere un problema legato a questa dipendenza, ma soprattutto fra i giovani, che però purtroppo non si avvicinano alla nostra associazione. E questo perché? Perché forse non c'è la consapevolezza del rischio, perché logicamente facendo parte un pochino della cultura il bere è diventato un po' un simbolo, lo stare insieme, fare gruppo del sabato sera e se te non ti alleni a questa cultura spesso vieni emarginato poi dalle compagnie. Io ricordo in una trasmissione nostra di botte e risposte di approfondimento con un gruppo di ragazzi, ragazzi poco più che ventenni, le ragioni per cui bevevano la risposta fu questa, semplicemente perché siamo più disinvolti con le ragazze, questo mi rispose e non era certamente una cosa salutare questa che mi è stata detta. Come possiamo contattarvi? Chi vuole presentarsi al vostro club ACAT? Cosa deve fare per entrare a far parte delle terapie di gruppo? Allora, per entrare e partecipare ai nostri club basta semplicemente chiamare il numero che trovate anche sulle nostre locandine o sul nostro sito web o tramite anche i contatti che sono nei club sulla locandina, chiedere un colloquio con i nostri servitori insegnanti che sarebbero quelle persone formate e che seguono singolarmente i vari club sparsi sul terreno e quindi in questo primo colloquio si dà una breve conoscenza di come è il nostro lavoro, come è il nostro metodo. Si spiega alle persone che cosa trovano all'interno del club, come funziona al nostro modo di lavorare e se queste persone sono predisposte e allora le accogliamo e le eseguiamo. Certo, è opportuno ricordare che il club ACAT Versilia lavora in collaborazione con il servizio di dipendenze della nostra azienda sanitaria e c'è anche un numero telefonico, c'è un sito come ci riceva poco fa il nostro ospite Bruno Vangelisti, c'è un sito dove potete prendere tutti i contatti che vi servono, comunque prendete penna e foglio di carta, scrivetevi il numero che io vi do ora che è il 388 37 40 502. Questo è il numero di ACAT e c'è sempre qualcuno che risponde. Il telefono è sempre acceso 24 ore, mi è capitato spesso di rispondere a delle persone anche alle due o alle tre di notte, perché magari nella difficoltà a contattarci c'è spesso e volentieri anche una certa paura o diciamo anche vergogna forse, più in alcuni casi. C'è la vergogna di arrivare a frequentare dei luoghi dove magari puoi ricevere un aiuto che però spesso vengono visti un pochino come sfigati. Spesso mi è capitato delle persone che avendo problemi con la droga hanno iniziato a fare un percorso nelle comunità e vengono elogiati per il percorso che hanno deciso di intraprendere. Spesso succede il contrario nei nostri club, cioè ci sono stati dei casi in cui degli amici o compagnie gli dicono come vai da club dei briagoni, dice dai ma che vuoi che ti faccio eccetera. L'alcol è un po' visto come una cosa normale nella nostra comunità e quindi spesso nelle persone c'è questa difficoltà a contattarci e magari forse c'è anche la possibilità di non conoscere anche il problema e quindi quando si arriva a capire che davvero è un problema siamo già a un livello abbastanza profondo e pericoloso. Infatti la maggior parte dei nostri frequentatori di club arrivano direttamente dal CERT principalmente, cioè quando siamo già in una fase acuta. sono dure le terapie di gruppo che fate? No, diciamo che la riunione del club dura circa un'ora e mezzo, una volta alla settimana fondamentalmente il metodo è un gruppo di autoaiuto dove si mettono a confronto le varie esperienze di ognuno e ci si confronta, si cerca di far emergere quello che sono magari le paure e le difficoltà delle varie persone, ma soprattutto è l'esperienza la medicina, diciamo, del nostro lavoro. Cioè l'esperienza di una persona che c'è già uscita può essere di grande aiuto per una persona invece che sta iniziando il percorso che all'inizio. Certo. Poco fa il nostro ospite ci ricordava che ci sono dei club già aperti in Versilia a Forte Remarmi, a Lidio di Camaiore, a Viareggio. Ora c'è un nuovo centro che avete aperto a Massarosa da pochissimo tempo, grazie alla collaborazione con l'assessore sociale Barsotti. Sì, l'anno scorso noi organizziamo un corso di formazione proprio a Massarosa e venimmo proprio qui a presentarlo, grazie alla vostra disponibilità. Perché anche con l'assessore con cui da diverso tempo lavoriamo, direi, in maniera egregia, come a Seravezza. Avevamo capito, grazie anche al suo assistente sociale, un po' alle dinamiche che sono un po' sul territorio, che c'era questa esigenza di vedere e di aprire anche lì un club per dare qualche risposta a dei bisogni sul territorio. Organizziamo questo corso per preparare delle persone che magari ci aiutassero a aprire questo club. Si è attivata una persona che è del Greco Lando, che è presidente della consulta di Massarosa, ha fatto il corso con noi, dell'Avis, ha fatto il corso con noi e insieme alla Barsotti abbiamo aperto un club lì a Pianto e Quercione presso la barrocchia. Però diciamo che il club non è ancora proprio partito in maniera attiva, perché purtroppo, nonostante che i bisogni sono reali, tangibili, perché noi spesso ci incontriamo con l'assessore, ci incontriamo con l'assessore sociale e le persone sono tante che hanno questa problematica, però è difficile riuscire a intercettarle e a convincerle a fare un percorso. Ed è peccato perché più passa il tempo poi più si aggrava e si diventa sempre più dipendenti dall'alcol. Purtroppo oggi è di moda lo sballo, soprattutto nei giovani, e sono forse loro quelli che fanno maggior consumo di sostanze alcoliche e molto spesso vengono mixate o miscelate anche con altre sostanze che non fanno altro che aggravare l'effetto, nel senso che ti dà ancora più vigore e più libertà interiore, ma chiaramente si aggravano sempre di più le situazioni legate alle patologie che appunto l'uso e l'abuso dell'alcol di certe sostanze portano. Da quanto tempo esiste l'ACAT in Versilia, diceva prima? Noi sono in Italia, sono circa 30 anni, abbiamo più di 2500 club aperti in Italia, in Versilia è nata nel 71 con 6 club e si è andata man mano anche un pochino ingrandendo perché ora siamo arrivati anche a 7 club, però diciamo che l'associazione è un'associazione che è partita da Zagabria con uno psichiatra Utonin che lavorava nei centri di salute mentale e ha capito di portare questa esperienza all'esterno dei manicomi e di vedere di fare un lavoro di gruppo all'interno delle famiglie e ora è radicata in tutto il mondo perché noi siamo presenti anche in America Latina, in Africa e quindi è un'esperienza ormai trentennale con la odata che lavora con un metodo credo abbastanza che dà delle risposte positive perché la media si parla circa del 70-80% di frequentatori, però devono essere frequentatori costanti perché è la costanza. Quanto dura una terapia? Noi abbiamo delle persone che sono 30 anni che continuano a frequentare perché non c'è un fine, non c'è un fine perché il continuare a frequentare il club vuol dire continuare a mettersi in gioco a tenersi in allerta perché chi ha avuto una dipendenza da alcol il rischio di una ricaduta ci sarà sempre perché vuol dire che questa persona ha una debolezza nei confronti di quella sostanza e quindi continuare a frequentare il club significa sempre confrontarsi ogni settimana e crearsi un'armatura, qualcosa che lo tiene sempre in allerta e non è più gli fa sottovalutare il problema certo, un'ultimissima cosa perché abbiamo esaurito lo spazio a disposizione, chi volesse contattare Massarosa si deve rivolgere sempre al nostro numero che è, lo ripetiamo ancora una volta tanto ACAT sul sito di internet trovate ACAT versi da tutti i riferimenti necessari, comunque il numero ve lo dico ancora una volta per contattare chi può accogliervi a braccia aperte e darvi subito ospitalità per una terapia è 388 37 40 502 io ringrazio molto Bruno Vangelisti di ACAT versi per la sua presenza oggi nei nostri studi noi invece ci vedremo domani puntuali alla solita ora, buon proseguimento di giornata arrivederci grazie a tutti i nostri studi grazie a tutti i nostri studi